Sono state spedite le lettere di preavviso di licenziamento per i 3.171 dipendenti del gruppo San Raffaele che dal 15 aprile rischiano di restare senza un posto di lavoro. Oltre che per loro la situazione è catastrofica per i 2.283 pazienti ricoverati presso le strutture del gruppo che inevitabilmente al 15 aprile rischiano la dismissione, a meno che la Regione non trasformi in azioni le tante rassicurazioni date in questi giorni e trovi un accordo con l'azienda. Quello che il gruppo contesta alla Regione è il blocco delle liquidazioni e il continuo rinvio da circa due anni della stipula d'intese. Ciò avrebbe portato il gruppo a dover decidere la cessazione delle attività sanitarie, non potendo più sostenere, si legge in una nota, il regolare pagamento degli stipendi, dei farmaci, dei presidi sanitari e di quant'altro necessario per una corretta assistenza, anche in ragione della derivata indisponibilità degli istituti di credito a concedere ulteriori finanziamenti. Secondo la dirigenza, da ben due anni la Regione quindi non pagherebbe all'azienda le prestazioni rese, contrariamente a quanto avverrebbe nei confronti di altri soggetti che stipulerebbero, regolarmente, intese con i funzionali regionali. Una situazione davvero critica che ha messo in allarme migliaia di famiglie e proprio per difendere i propri diritti e per far fronte a quella definita una catastrofe, si è costituito il Comitato per la difesa del San Raffaele, cui hanno aderito dipendenti e pazienti. Ogni comitato ha un suo coordinatore. Abbiamo incontrato i coordinatori della sede di Viva Alcannuta, Marco Marziale e Alessandro Castellana, entrambi funzionari del gruppo San Raffaele. Con Marziale abbiamo affrontato una questione più tecnica. 3.171 lettere di preavviso e di licenziamento sono state spedite ieri, 4 aprile, ai dipendenti della San Raffaele che il 15 aprile, se non cambieranno le cose, si troveranno in mezzo a una strada. Come sono andate le cose e cosa sta succedendo all'interno dell'azienda? Come l'azienda è arrivata a decidere questo? Confermo di aver ricevuto la lettera di preavviso e di licenziamento. La San Raffaele opera nella Regione Lazio con circa 17 strutture, case di cura, poliambulatori, laboratori analisi, più una struttura in Abruzzo. La Regione Lazio purtroppo da un paio d'anni a questa parte ha iniziato con una serie di provvedimenti ad eseguire dei tagli. Tagli di attività e tagli a livello di budget, con addirittura diminuzione della remunerazione delle prestazioni, che pensi sono ferme dall'anno 1994. Nel 2007 ci hanno ridotto la tariffa per le prestazioni di abbiazione dell'8% per riportarla a quella del decreto ministeriale dell'anno 1994. Con 5 rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con gli incrementi del costo della vita e che ha portato di dover rischiare di non poter più portare avanti quella che è stata la politica primaria di questa azienda, che è quella di dare qualità all'assistenza. Poi si è arrivati con il decreto 80 a dover riportare i posti letto di riabilitazione dall'1 per 1000 dello standard in base alla popolazione allo 0,7 come registro dal patto per la salute del dicembre 2009. Però c'è da dire che c'è un eccesso di posti letto di riabilitazione in alcuni territori, ad esempio ai Castelli Romani, oltre alla San Raffaele, ci sono tante altre strutture private che si occupano di riabilitazione. Dunque, tagli di posti letto ok, però la Regione Lazio ha basato il tutto sulla riconversione. Che cosa vi ha chiesto di riconvertire? Come vi siete organizzati per riconvertire magari quei posti letto di riabilitazione, non so, in RSA, di cui c'è tanto bisogno nella Regione Lazio e sono posti mancanti? Ma guardi, il discorso dei posti letto di riabilitazione che sono, come si dice in sovranumero, ai Castelli Romani, io non condivido una cosa del genere. Credo che questo possa essere visto anche come un bene, anche perché i ricoveri di riabilitazione sono i ricoveri comunque di lunga durata, che possono avere una durata media di 30, 40, 50 giorni. I tagli previsti al 30, 80 sono stati fatti orizzontalmente, senza tener conto della qualità delle prestazioni erogate dalle singole strutture. Devo dire con tutta sincerità che la nostra azienda ha cercato di dotare le strutture delle migliori tecnologie e dei migliori specialisti, e questo può vederlo chiunque. Invito anche voi ad andare in una qualsiasi delle nostre strutture, per verificare quanto sto dicendo. Non vi dico quali, in una qualsiasi. Nonostante ci siano stati dei tagli pesanti da parte della regione, in questi anni l'azienda ha continuato ad investire, proprio perché non intendeva licenziare i suoi dipendenti, questo mi sta dicendo. Esattamente, l'azienda ha continuato ad investire. Evidentemente siamo arrivati ad un punto che con i tagli, con i mancati pagamenti, con i numeri che conosciamo, si tratta di 150 milioni di euro di mancati fatturati, più altri che non so quantificare, che derivano da contenzioso vinto dalla nostra azienda e che è necessario quantificare. Quindi andiamo a oltre i 150 milioni. Quanto costa alla regione un posto letto alla San Raffaele? Un posto letto alla San Raffaele di riabilitazione costa circa 240 euro. Castellana ci ha spiegato invece come si sono costituiti i vari comitati e con quali finalità. Il comitato è nato spontaneamente e praticamente nello stesso momento in tutte le strutture del gruppo. Cioè tutte le strutture, i lavoratori delle strutture, ma non solo i lavoratori, anche i pazienti che sono entrati a conoscenza delle problematiche che stavano per travolgere il gruppo, hanno deciso di attivare delle sezioni che si potessero adoperare per attirare intanto l'attenzione sia della politica ma anche dei mass media sulla gravità del momento che stava passando il gruppo San Raffaele. Ovviamente contemporaneamente questa cosa succedeva giovedì della passata settimana, precisamente giovedì sera, un moto di rabbia, io direi proprio così, lo definirei, attraversava un po' gli uffici della sede centrale di Val Canuta. Una sede che normalmente è particolarmente tranquilla perché vivendo fuori dall'operatività delle strutture non è lontana dalla vita delle strutture ma la vive un po' di riflesso, se vogliamo. Questa volta anche alla luce dell'imminenza in quel momento delle lettere di ricenziamento o di preavviso di ricenziamento che stavamo per ricevere, uno scossone forte c'è stato anche qua. Quindi anche un po' per deformazione, se vogliamo, strutturale, cioè dire la sede centrale. La sede centrale ha fatto nascere la propria sezione che si è assunta un po' il ruolo, anche per abitudine, se vogliamo, di coordinare o quantomeno di allineare le iniziative delle singole strutture, anche per massimizzarne gli effetti, per far sì che quello che faceva uno non fosse esattamente il contrario di quello che poteva fare qualcun altro. E' nata, torno a sottolineare questa cosa, spontaneamente ed è nata perché assistevamo come operatori del settore, sia sanitari che amministrativi, che, torno a ripetere, pazienti e parenti dei pazienti, a una fase di stallo che durava da troppo tempo. Io per esperienza, per vita vissuta aziendale, assisto da oltre due anni ad incontri tra, da un lato, le associazioni datoriali alle quali aderiscono le varie strutture e dall'altro la Regione Lazio attraverso i suoi funzionari, che poi portano a poco o comunque portano a delle situazioni transitorie non ben definite. Se caliamo tutto ciò su di un gruppo che da quattro anni, non da due anni, subisce gli effetti dei tagli che per il gruppo sono stati più devastanti per un motivo molto semplice, già l'ha detto prima il mio collega, noi facendo, essendo specializzati in alta specialità riabilitativa, quindi non una riabilitazione senza togliere nulla, intensiva pure semplice, ma al nostro interno abbiamo delle eccellenze in tal senso, con i tagli e quindi con la dequalificazione, non solo quindi tagli di posti diretto, ma anche dequalificazione delle attività che noi facciamo, faccio l'esempio della cosiddetta RAI, che è riavviazione ad alta intensità, che oggi è stata declassata al codice 75, o della LAI, la lungodeggenza ad alta intensità, sulla quale c'è tanta confusione anche a livello regionale sul termine lungodeggenza ad alta intensità, che viene spesso confusa con la riabilitazione che fino a un certo punto poteva essere rogata sui posti diretto di lungodeggenza, per esempio queste tipologie precedentemente, ma ancora oggi, anzi oggi qualcosa è cambiato, esistevano soltanto 80 letti in tutto il Lazio, di questi 80, 20 di RAI e 20 di LAI erano sulla struttura di Cassino, improvvisamente dai decreti è scomparso il riconoscimento di queste attività. Poi a questo, perché poi gli operatori si informano, quando vedono un mese che lo stipendio, nonostante tutte le difficoltà, è sempre arrivato, ma magari ritarda, si informano perché ritarda, e scoprono che perché c'è una verifica da fare qua, piuttosto che una verifica da fare là, oppure una certificazione mancata da parte delle ASL, semplicemente motivate da la lentezza burocratica nell'effettuare poi i controlli sulle prestazioni. Le prestazioni erogate nel 2007, ancora oggi, stanno aspettando il controllo della parte pubblica. Questo fa sì quindi che ai tagli, alla dequalificazione, si aggiunge anche il blocco finanziario. Blocco finanziario significa anche blocco finanziario da parte delle banche, quindi è un crescendo, è un effetto domino, se vogliamo, disastroso, che a un certo punto, per la prima volta, in una maniera, come dire, io spero non irrevocabile, ha portato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda a metterci davanti a un bivio. Qui non siamo più in condizioni di continuare a navigare a vista giorno per giorno, in un lento stilicidio, e quindi noi vogliamo, questa è stata un po' la sensazione, il messaggio che abbiamo percepito, perché poi in realtà abbiamo ricevuto il comunicato e poi a seguire la lettera, quindi non è che qualcuno ci ha convocato e ci ha fatto il comizio, tanto per essere chiari. E quindi non vogliamo che addirittura al rischio vada la salute dei pazienti, che nel gruppo San Raffaele, glielo posso testimoniare, io ho diretto tre strutture prima di venire in sede centrale, sono state sempre al centro dell'organizzazione, l'attenzione è stata sempre massima. Allora non ci possiamo permettere, questo era il messaggio, che magari qualche paziente a causa di queste nostre difficoltà possa rimetterci qualcosa, anche fosse poco, della propria salute, che è un bene a cui non possiamo rinunciare. Questa cosa è stata percepita da tutti noi e quindi al di là del ruolo delle parti, cioè dire da un lato il datore di lavoro, dall'altro le organizzazioni sindacali e dall'altro ancora la Regione Lazio, ci siamo sentiti in dovere di far sentire la nostra voce, che non è detto che sia in contrasto con quella del sindacato, così come non è detto che sia distante da quelli che sono i disegni della Regione Lazio. Però, questo è una cosa certa, non possiamo andare oltre il 15 aprile. Noi conosciamo la determinazione dei nostri azionisti e sappiamo pure che non sono persone che vogliono lavorare male. Sicuramente hanno a cuore il destino dei propri dipendenti, sicuramente ancora di più dei pazienti che le strutture assistono e proprio per questo non vogliono continuare a lavorare in una situazione così precaria. Ma tantomeno vogliamo continuare noi operatori. Questo sia chiaro a chi ci ascolterà attraverso i mass media. Questo lo stiamo cercando di trasmettere a tutti. Abbiamo scritto una lettera aperta alla Presidente Polverini proprio perché abbiamo colto anche, quantomeno dai messaggi pubblicitari, anche dalle azioni che sta facendo nei quartieri e così via, una vicinanza alla cittadinanza. Allora, noi prima di tutto siamo cittadini, secondo poi siamo lavoratori, terzo tutti i potenziali pazienti. Non siamo disposti ad aspettare ancora che qualcuno decida di che morte dobbiamo morire. Daremo tutto il massimo del nostro contributo per far sì che si arrivi a una soluzione condivisa ovviamente, però che sia fattiva, costruttiva e che ci dia garanzie per il futuro. Prima di tutto a noi lavoratori. A noi interessa ovviamente che l'azionista continui ad investire e quindi chi ci volesse accusare di strumentalizzazioni varie o che lo faccia pure, non ci interessa. Noi andiamo avanti. Ovviamente io colgo l'occasione, anche so che giovedì di questa settimana ci saranno degli incontri in Regione. mi sento anche di chiedere una, anche se poi è un po' come dire superfluo, visto che è un loro dovere istituzionale, nascono per questo un forte supporto da parte dei sindacati e dei lavoratori che devono anche in qualche modo riconquistare la nostra fiducia. Noi ci siamo sentiti un po' abbandonati, altrimenti probabilmente saremmo andati tutti a bussare al sindacato, tutti ci saremmo iscritti al sindacato, dovete essere, sarebbero aumentate. Io non sono mai stato iscritto a un sindacato, non so se mai lo sarò. Quello che è certo è che sono pronto fino all'ultimo giorno a difendere il posto di lavoro. E questo insieme a 3.000 colleghi. Se giovedì non si risolverà la situazione, se giovedì non ci saranno buone notizie, nei prossimi giorni fino all'arrivo del 15 aprile, come intendete muovervi? Allora, lei sa che noi abbiamo già raccolto, e questa è stata una sorpresa anche per me, ma fino a un certo punto, perché conosco sia i colleghi che i pazienti che frequentano le strutture, non tutti ovviamente i pazienti, ma la clientela, la tipologia di clientela, è brutto chiamare i pazienti clienti, ma sono e devono essere anche clienti, prima che pazienti, perché meritano la giusta attenzione. Noi nel giro, le dicevo prima, giovedì sera, moto di rabbia, venerdì costituzione, lunedì passato annuncio ai sindacati e di questa nostra iniziativa è lettera aperta alla Polverini, quindi noi tra sabato e domenica abbiamo raccolto qualcosa come 6.000 firme, che poi le consegneremo, così che possano essere anche queste testimonianze, stiamo continuando a raccogliere, ma questo è soltanto un primo segnale. Poi ci sono 6 iniziative prese a livello locale dalle strutture, c'è stata una sensibilizzazione delle parti politiche, sia di governo che dell'opposizione, se dovesse andare tutto storto, cosa che io non mi auguro, che nessuno di noi si augura, può star sicura che fino al 15 notte, ma anche oltre, faremo tutto quello che è consentito ovviamente dalla legge, quindi niente di eclatante, niente di violento, ma sicuramente faremo sentire la nostra voce tutti i santi giorni che Dio manda in terra, prima e dopo il 15. Dopo il 15 è ancora di più, perché saremo liberi da ogni impegno lavorativo. Non resta dunque che aspettare, auspicando che la Regione risolva il contenzioso col gruppo, pensando sia ai 3.171 lavoratori che alla salute dei 2.283 pazienti ricoverati.